Oviveiro si trova a Scitima, una cittadina in un'area depressa del Mozambico, dove la malaria è endemica e il colera una costante. Oviveiro significa il vivaio in portoghese. Non accoglie piante, ma bambine, ragazze orfane o disagiate. Ci vuole una grande forza interiore, determinazione, consapevolezza e anche amore di sé per stare nel viveiro.